Non si ferma l'avanzata del covid-19 anche a Cava dei Tirreni. Nel pomeriggio di ieri sono stati resi noti gli ultimi dati sul contagio dal Dipartimento di Prevenzione. I cittadini attualmente positivi al virus sono 281, 75 i nuovi negativizzati. Tenendo conto del bollettino diramato lo scorso 18 dicembre, significa che in pochi giorni sono stati accertati oltre 90 nuovi positivi. Sale a 6 il numero dei cittadini cavesi ospedalizzati. Aumenta purtroppo anche il numero dei deceduti. Con la scomparsa di un 61enne, i cavesi, che hanno perso la vita a causa del covid-19, sono 50. Nella città metelliana i positivi si concentrano prevalentemente nella fascia d'età tra i 31 e i 50 anni, ma molto numerosi sono anche quelli di età compresa tra i 51 e i 70 anni. Il sindaco Vincenzo Servalli inoltre ha comunicato che sono complessivamente 83.722 le dosi di vaccino anti-covid già somministrate e che l'86% della popolazione over 12 ha ricevuto almeno una dose. Il 77% ha ricevuto due dosi e il 19% è stato vaccinato anche con una terza dose. La quarta ondata del covid sta colpendo significativamente anche i vetri sul mare. Attualmente sono 50 i cittadini vietresi alle prese con il covid. Soltanto ieri sono stati comunicati dal sindaco Giovanni De Simone 15 nuovi positivi.